Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni perché la crisi porta progressi. Queste parole erano di Albert Einstein e sulla scia di questa citazione il Rotary Club Arezzo ha organizzato un incontro pubblico dal titolo Crisi ed opportunità, un focus sulla situazione economica e sulla crisi attuale con lo spunto delle eventuali opportunità. Con uno spirito di fotografare la situazione attuale ma anche guardando con una certa positività a tutte quelle opportunità che attraverso un periodo di crisi si creano nel mondo dell'economia e nel mercato in generale. Presenti imprenditori, associazioni di categoria e commercialisti ad illustrare l'istantanea della situazione economica retina la Camera di Commercio. Discute di crisi e opportunità per un territorio come il nostro a forte vocazione manifatturiera, distrettuale per quanto riguarda l'oro e la moda, che ha delle carte da giocare sicuramente sui mercati internazionali ma anche in forte recupero sul turismo, sul commercio, sui servizi. Purtroppo il quadro internazionale penalizza ancora una volta dopo la pandemia il nostro territorio e quindi i nostri imprenditori sono chiamati a tirar fuori ancora resilienza e stringersi per cercare di ripartire con il piede giusto. Sono tante le difficoltà dal punto di vista del reperimento delle materie prime con l'approvvigionamento sempre più difficile e sempre più caro, le difficoltà del reperimento del personale, soprattutto quello specializzato in alcuni settori e ad alto contenuto tecnologico che i nostri distretti richiedono e non per ultimo l'aumento sicuramente dei consumi energetici che in questo momento stanno affliggendo fortemente il nostro distretto anche se non particolarmente energivoro.